Allora, io vi invito a prendere questa indiscrezione come tale e quindi con le dovute pinze, con le dovute tronchesi, ma siccome non ce l'ho a portata di mano, magari prendetela con le dovute pinzette, anche se non basteranno sicuramente ce ne vuoi proprio, vabbè, ciao, bella a tutti da me. Allora, ieri è uscita questa indiscrezione secondo cui Ames Rodriguez starebbe seriamente pensando di restare a Madrid ma di cambiare sponda perché sembra che ci sia un interessamento da parte dell'atletico Madrid, no cambia sponda che va in giro un minigonna e cominciano a piacere i maschi, no cambia sponda semplicemente che passa da una squadra di Madrid all'altra. Questa è l'indiscrezione che sta trapelando in questo momento e perché? Perché sembra che l'atletico Madrid si sia fatto avanti, che Simeone lo abbia cercato perché è ovvio ormai quasi palese che perderanno Griezmann, sì che hanno preso anche Joao Felix ma vorrebbero andare a rinforzare e rimpolpare quello che è il reparto offensivo e quindi Ames Rodriguez che fino a qualche giorno fa aveva solo l'interesse del Napoli avrebbe pensato, dice ma restare a Madrid potrebbe essere un'opzione, perché non pensarci? Prendiamo un attimo di tempo, lo ripeto stiamo parlando dei indiscrezioni e dopo un minuto e venti, ciao bella a tutti da me, il Gabbon vi saluta. Sky dice che difficilmente il Real Madrid deciderà di cedere uno dei suoi gioielli ad una diretta concorrente, per di più anche rivale diretta sul campo perché appunto fanno il derby, sono due squadre di Madrid. Però sappiamo che nel calcio mai dire mai può succedere veramente qualsiasi cosa, secondo Sky il Real sarebbe addirittura disposto a farlo marcire in panchina piuttosto che darlo all'atletico, poi ha fatto compiuto bisogna vedere quello che potrebbe succedere. Napoli che comunque sta cercando di portare avanti la trattativa, tant'è che anche oggi Ancelotti l'ha detto, ha detto siamo interessati al giocatore, non è ancora un giocatore del Napoli, magari lo diventerà e magari no. Quindi non posso parlare del giocatore che comunque ancora attualmente non è del Napoli, parliamo dei giocatori che ho attualmente in rosa. Io non so alla fine quello che succederà, fatto sta che sì, secondo me un po' all'Antonio Cazzaro, sembra un po' un ripensamento da parte di Ames Rodriguez, che comunque sembrava particolarmente convinto dalla destinazione Napoli, disse qualche giorno fa in un'intervista, ci ha giocato Maradona, è un club importante, a chi non farebbe piacere andare a giocare lì. Come ha detto Fabio è inutile che uno prende per partito preso le parole di un giocatore oggi e poi si meraviglia se il giorno dopo dice praticamente l'opposto o cambia completamente idea perché contano i fatti alla fine. Però io sinceramente e personalmente parlando preferirei che il giocatore, non lo so, se esponga solo quando è convinto di fare una determinata cosa, perché se no veramente ogni giorno si sente tutto il contrario di tutto. Domani Ames Rodriguez probabilmente, chi lo sa, farà una conferenza, farà una dichiarazione in cui dice ho sempre sognato di andare all'Atletico, addirittura lo preferivo a Real Madrid ma quando ero lì non potevo di chi lo sa. Mi aspetto anche questo, vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti. Ripeto, secondo Sky è veramente difficile che Ames Rodriguez vada all'Atletico Madrid, squadra diretta rivale del Real Madrid, ma a sto punto io non escludo assolutamente nulla. C'è però da dire che il Napoli sta provando ad affondare il colpo definitivo e potrebbe comunque riuscirci chi lo sa. Certo che cambiare proprio completamente casa e zona per certe persone magari può fare la differenza. Chi lo sa che magari Ames Rodriguez abbia fatto questo tipo di ragionamento dicendo ma a sto punto se proprio devo cambiare squadra preferisco restare a Madrid, che comunque è una città a cui mi sono affezionato e che conosco. Voi dire, ma stava a Monaco fino all'altro giorno. Eh lo so, però che cazzo ne so? Mi piace. Commentate, condividete col vostro parere, iscrivetevi al mio canale. Qualora non lo aveste ancora fatto, molto probabilmente Ames Rodriguez partirà e non resterà a Real Madrid. Questo è il mio modo di pensare. Fu così che restò a Real Madrid e fece la tribuna da Mo a inizio anno. Non conviene neanche a Real perché ci perde una quarantacinquina dei milioni di euro dei valori del giocatore e non solo, se poi non lo fai giocare perché magari non rientra nei piani tecnico-tattici di Zidane, svaluti ulteriormente il giocatore. Quindi essendo un esubero, e lo ha detto anche Zidane, è ovvio che l'intenzione è quella di provarlo a Cede. Mo vediamo chi affonderà il colpo perché poi l'atletico c'ha un altro problema che è la grana Griezmann. Griezmann che non si presenta agli allenamenti perché vuole assolutamente andare al Barcellona. Addirittura dice pago io la clausola rescissoria come ha fatto Neymar, me la pago personalmente perché me voglio liberare dall'atletico Madrid. Io non voglio più stare qui, quello e quell'altro e quell'altro. Poi magari tutta sta fuffa, chi lo sa, Griezmann rimane all'atletico Madrid. Chi può dirlo? Ripeto, non mi meraviglio più assolutamente di nulla. Quindi chi vivrà vedrà. Vediamo più avanti quello che succederà perché il calciomercato è ancora lungo. Cioè parecchio tempo le trattative possono decollare o arenarsi definitivamente nel giro di un attimo. Quindi vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti. Che fine fa Mester Rodriguez andrà al Napoli, andrà all'atletico o se inserirà la terza squadra così a il Barcellona di turno che lo ruberà alla Malcom, alla Malcom, Malcom è un'altra cosa, ad entrambe le rose che lo vorrebbero? Chi può dirlo? Dai, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Volevo aggiungere una cosa, non voglio aggiungere niente, vaffanculo.